Wow 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 wow, buono, 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 buttate giù, buttate giù, buttate giù, buttate giù, dai non moritemi subito Eeeh, ciao a tutti nel tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati su Clash of Clans, come vedete ci sono un po' di cambiamenti Innanzitutto ho raggiunto le 500 gemme, dopo aver fatto un bel po' di obiettivi, dopo aver tolto un bel po' di ostacoli Infatti sono arrivata a un numero abbastanza grande di ostacoli, dov'è che sta un lavoro pulito? Ho rimasto 123 ostacoli che mi hanno dato per fortuna un bel po' di gemme, posso finalmente comprarmi un altro costruttore Mettiti qua, bravo, adesso abbiamo solo 3 gemme ma non me ne frega niente, ne vale la pena Allora prima di cominciare voglio dirvi un paio di cose Ho aperto il clan, come sapete tutti, ecco qui il clan, ecco qua il clan e tutta la gente che c'è Molti di voi si sono lamentati, si ma Charlie tu hai fatto entrare solo determinate persone No ragazzi non è vero, io ho fatto entrare le persone a caso, cioè chi vedevo lo accettavo A me un sacco di gold avevano chiesto di entrare ma non li ho accettati perché magari avevo visto prima alcuni argento Non è che ho cacciato gli argento per fare entrare i gold, assolutamente no, io chi vedevo accettavo Questo clan mi piace, non perché vada bene, non perché siamo fortissimi, tipo le clan war non riusciamo a vincerle perché la gente non attacca Cioè adesso vi faccio vedere la clan war in corso, abbiamo fatto 18 attacchi su 40 e la clan war è quasi finita Mentre loro ne hanno fatti 23 ovviamente hanno fatto più stelle Noi se le persone forti attaccassero, cioè le più forti non attaccano quasi mai Come vedete, vedete quanta gente non ha nemmeno un attacco Cioè ragazzi guardate tantissima gente non ha nemmeno un attacco Ora io ho failato perché praticamente il mio corrispettivo era davvero una pippa Cioè guardatelo, era una pippa assurda Cioè era facile da sconfiggere, che cavolo Bastava posizionare bene giganti, stanare per bene Però purtroppo avere delle truppe del clan forti Il mio obiettivo era ucciderlo con le truppe del clan belle forti Infatti me le ero fatte donare Ho fatto donare delle robe potenti, roba di draghi, roba forte Cosa è successo? Quando sono andata ad attaccare Ho fatto la mia strategia, ho stanato le truppe del clan Le ho fatte stanare, da qua ho posizionato gli spaccamuro giganti E poi spaccamuro così colpivano prima i giganti mentre gli spaccamuro spaccavano appunto i muri Sono andata per posizionare le truppe del clan E le truppe del clan non c'erano più, erano scomparse E non mi avevano attaccato perché avevo anche lo scudo Quindi davvero ragazzi non so cosa sia successo E purtroppo ho felato l'attacco e mi dispiace Però comunque capitemi ragazzi io sono ancora alle prime armi Gioco da due settimane a clash, devo ancora imparare bene le meccaniche Loro intanto ipotizzano quello che faccio Apre un po' la chat del clan Esatto, bravo Shadow, hai indovinato Fa qualche taglio, beh solitamente sì Comunque allora come vedete ho sistemato Innanzitutto sono diventata a livello 5 Municipio di livello 5 Se non mi sbaglio l'ultima volta ero ancora a livello 4 L'ho upgradeato proprio oggi, ho finito di upgradearsi E devo quindi adesso dato che devo ancora maxare tutto Perché c'è poche ore fa ha finito Quindi sto ancora finendo di maxare tutto quanto Cioè devo ancora iniziare a maxare tutto quanto Però voglio farvi vedere che ho due Due disposizioni Che mi ha passato entrambe un mio amico Le ho modificate un po' da quelle che mi ha passato Me le ha passate, le ho prese da internet Non ho idea comunque me le ha passate E ne ho due, questa per il farming Che metterò adesso No no dai teniamo ancora questa Questa ancora un po' perché vedo che funziona Dato che non voglio farmi togliere trofei Questa qua funziona molto bene e ve lo faccio vedere Adesso la tua difesa ha vinto Vi faccio vedere questo replay Che appunto mi da 26 coppe che non sono male 1, 2, 3, 4 Come vedete le truppe del clan sono uscite a fare il culo ai giganti Però comunque non sono riusciti a passare Cioè li ho distrutti al 100% E' stato veramente Forse avrei preferito che riuscissero Le truppe del clan non le attaccassero Per vedere se solo con le mie difese Riuscivo a sostenere l'attacco Ma sinceramente credo di si Perché passando da qua Avrebbero prima dovuto distruggere questo Mentre questo, questo e questo li attaccavano Quindi anche questo probabilmente Si si avrebbe attaccato anche questo Quindi probabilmente avrebbe retto Invece l'altra che ho creato E' la difesa per il Cioè la base per il farming Ve la faccio vedere Modifica a disposizione E questa qua che ha il municipio fuori In modo da farmelo attaccare E mettermi lo scudo Anche se ho saputo che il prossimo aggiornamento Uno del clan ha detto che al prossimo aggiornamento Questa cosa del municipio Verrà tolta Si annulla le modifiche Quindi questa è la mia nuova base Per le difese E l'altra è la base per il farming Vi faccio vedere l'attacco di shadow Che non mi ricordo a chi era Quindi ve lo faccio vedere da qua Perché mi è piaciuto parecchio E' stato molto molto bravo Perché era difficile l'obiettivo Quindi secondo me è stato bravo Non ha tristellato però Non era necessario Cioè alla fine anche due stelle vanno bene L'importante è attaccare ragazzi Infatti come vedete Non è andato male Ha stanato le truppe del clan Mettendo qua lo stregone E poi le ha fatte fuori con altri stregoni qui Quindi E intanto Penso che stesse attaccando Ecco si attaccava da questa parte Non è affatto male come attacco ragazzi Perché questa era una base comunque difficile da sconfiggere Però lui è riuscito a fare due stelle Che non sono per niente male Ovviamente io parlo anche da tra virgolette ignorante Perché io non è che sono esperta con clash Ripeto ci gioco da una settimana Ho lasciato questo spazio libero Perché devo mettere la torre dello stregone Però non ho ancora abbastanza soldi Perché le ho usate di recente Per farmi tutte queste mura Le ho upgradeato queste mura Ho upgradeato anche queste E adesso vorrei upgradeare un po' le miniere d'oro Perché appunto Faccio davvero davvero poco oro Eeeh beh Eeeh beh 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 È un bel po' in effetti Due giorni tutto questo Però alla fine ci servono Quindi dato che adesso abbiamo tre costruttori Possiamo mettere a fare sia queste E sia direi anche questa pompa di elisir Che ci mette solo un'ora Quindi tra un'oretta potrò tornare Come dicevo prima Stavamo decidendo di togliere le persone inattive dal clan Innanzitutto le persone che non hanno attaccato nelle war Che abbiamo messo nelle war ma non attaccato Facendocele perdere Perché se tutti attaccassero nella nostra war All'80% riusciremo a vincere Perché comunque non fanno cattivi attacchi Eeeh Ma molti riescono anche a tristellare Quindi potremmo anche vincere Peccato che non attacchino tutti E non è giusto Intanto qua parlano di molise Come al solito il molise non esiste Ragazzi siete fantastici Vi adoro tutti Eeeh Parlano di tech Che viene dal molise Eeeh Non si fa vedere perché viene dal molise L'ha detto L'ha detto shadow Ovviamente chi poteva dire una cosa del genere Ora metto a fare un po' di truppe Perché posso provare ad attaccare Metto a fare 5 Spaccamuro 10 Faccio sì Facciamo 10 Giganti Mi avete detto che le mongole al 2 Non le mongolfiere al 2 Non servono a nulla Io ci credo Quindi non le faccio E lascio spazio magari A una quarantina di arcieri Voglio provare un attacco solo arcieri Senza barbari Quindi ne faccio 20 di qua Prendo una Per smaltire il tempo Perché se no Ci mette troppo tempo E le faccio anche di qua E vediamo un po' Che cosa viene Martina mi ha chiesto Di far sentire una cosa Questa cosa devi mettere nel video Charly Moon E' bello avere amiche normali La cosa bella di registrare Clash E' che devo stare qui 300 ore Aspettando che le cose vadano Cioè io inizio a registrare E finisco mezz'ora dopo Perché sono volate sapere Sto registrando circa un'ora Questo video E dovevo studiare E non posso più Perché devo ancora aspettare E fra mezz'ora Devo scendere E prendere la scuola guida E vai Intanto ci guardiamo Il replay di Jack Forever Perché non so che fare Mentre aspetto Ha detto L'attacco migliore Per risorse Che ho mai fatto E ce lo guardiamo Bravo 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 E finalmente Le truppe Hanno finito Pieno 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 Ok possiamo andare ad attaccare Tanto non abbiamo scudo Quindi non fa niente Oh 32 trofei Al primo colpo Abbiamo beccato Abbiamo anche un bottino Niente male Alla fine 25.000 46.000 Sono abbastanza onesti Come si dice Affoggia Devo solo provare A stanare Le truppe del clan Se ce ne sono Non ce ne sono Perfetto Quindi adesso Faccio Una bella cosa Posiziono Qua I giganti No Quali posiziono E poi subito Di spaccamuro Vai spaccamuro Vai Posiziono anche Gli altri giganti Qua dato che ce li ho E qui Metto Tutte le Tutti gli arcieri No non devi muovere Devi posizionare gli arcieri Che tanto qua Come vedo Ha una pecca Praticamente qui Nessuno Si caga gli arcieri È come se non ci fossero Quindi fantastico Abbiamo I giganti Che stanno Venendo massacrati Dal mortaio Però non importa Tanto gli arcieri Stanno facendo ancora Un po' di danno Wow 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 Buono 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 Buttate giù Buttate giù Buttate giù Buttate giù Dai non moritemi subito Dai dai Allora Quelli al 3 Ne è rimasto solo uno È mortaio di merda Allora la prossima Appunto Appunto La prossima volta Devo andare Subito Immediatamente Oh cazzo Mortaio di merda Se riesco Allora se riuscite No non ci riescono A distruggerle il mortaio Però riesco a fare una stella Riesco a fare una stella Riesco a fare una stella Ragazzi ci riesco Ci riesco Mi sa che ci riesco Ebbene sì Dovrei riuscirci Eh se il mortaio Non rompe le palle Mortaio Maledetto Stavo per fare una stella Dai una 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 Maledizione Una No non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Mortaio del cavolo Per un pelo Mamma mia Oh Per un pelo Dai Allora Un appunto Per la prossima volta Il mortaio Deve essere distrutto Per primo Cioè Assolutamente La prima cosa Che devo fare È distruggere Il mortaio A me ragazzi Dai stavo imparando Piano piano Si riesce a fare Sempre meglio Ho fatto Un attacco A A una base Che era tra virgolette Anche più forte Di me Perché effettivamente Aveva già A parte che aveva Aveva già lo stregone Come difesa Che comunque Ho quasi abbattuto Tutte le difese Tranne quattro Però purtroppo Ho fatto l'errore Di non andare subito Dal mortaio Che effettivamente È la cosa più fastidiosa Quindi probabilmente Dovevo andare Da quel lato Un errore Che mi aiuterà A migliorare La prossima volta Comunque Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tanti mi piace Tanti commenti Per aiutarmi A migliorare Sempre di più Perché vi ricordo Che io sto ancora imparando Quindi Il primo insulto Che leggo nei commenti Vieni bannato Perché Mi vanno bene Le critiche Perché Anche quelli del mio clan Mi criticano Mi riconoscerli Non si fa così Si fa così Va benissimo Perché mi fanno migliorare Ve li ringrazio sempre Per i consigli Ma gli insulti Tipo Sei uno schifo di merda Sei una collina di merda Solo perché Sto imparando a giocare A clash of clans No Quindi lasciate tanti commenti Tanti mi piace E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi E noi ci vediamo in un prossimo video